Per la tecnica di lavorazione si parte dall'orditura, che è questa in verticale, quella che vedete messa in verticale, con i fili che vengono arrotolati nei cannelli, che sono cannelli di canna, adesso non usiamo la canna, e poi nell'orditoio si prepara tutta la lunghezza che vogliamo utilizzare per fare il nostro lavoro. Una volta che abbiamo messo su l'orditura, che generalmente per un'orditura abbastanza lunga siamo in 4 persone, viene messa su l'orditura avvolta nel subio, nel termine che è quello, praticamente viene portata nei licci, in questi licci qui, in ogni liccio viene messo un filo, un filo nel liccio davanti, un filo nel liccio di dietro e viene praticamente intercalato, dopodiché, finito il passaggio della licciatura, ogni filo viene messo in un dente del pettine. Questo pettine praticamente ci dà la distanza tra un filo e l'altro e le licciature vengono legate ai nostri piedi che troviamo qua in basso e questi piedi vengono utilizzati, vengono legati a ogni licciatura e ci dà poi l'apertura per permettere al nostro telaio di lavorare, quindi il lavoro viene incrociato in queste licciature. Noi raccogliamo nel davanti il nostro filato e dal di qui con o la navetta, che è questo accessorio qui per fare piele e quant'altro, oppure con le mani passiamo, in questo caso con le mani perché stiamo facendo un arasso, passiamo il filato. La mia passione è nata, diciamo così, vent'anni fa quando sono venuta a abitare qui, sgomberando casa, che poi casa era di mia suocera, la casa di mio marito, così, è venuto di qua nei pezzi, questo telaio qui fra l'altro, era tutto nei pezzi. Messo sul magazzino è nata la curiosità di vedere che cosa l'utilizzo, cioè è nata così per caso, nel senso trovandomi lo strumento e volendo, avendo la curiosità di vedere che cosa veniva fuori. Dopodiché ho cercato una persona che mi desse i suggerimenti, i consigli per andare avanti e come portarlo avanti, che ho trovato Graziella, che me li ha dati tutti, e poi è nato il lavoro dopo insieme, perché alla fine lei tuttora, cioè facciamo i nostri pezzi, sono fatti insieme ci consultiamo, lei invece ha iniziato a 13 anni proprio come mestiere.